Hello guys, what's up? This is AB71 from Shanghai, China today. Oggi da Shanghai. Mi trovo nella mia piccola residenza qui, in centro Shanghai, un viaggio abbastanza buono, devo dire. Sono arrivato ieri nel tardo pomeriggio, giusto in tempo, per fare un bel bagno rilassante e una mangiata. Oggi invece andrò in giro per fare un po' il mio business e poi farò qualche video qui da Shanghai, giusto perché così possiate vedere questa meravigliosa città tramite i miei video. Sono riuscito a fare una breve telefonata verso l'Italia, ho visto dell'ingaggio di Kotter, di Ntenda e mi hanno detto appunto che Chong, come aveva detto Don Capone nel primo video di mercato di questo mercato invernale, vi avevo detto che la Juve era molto vicina all'ingaggio di Chong dal Manchester United per il 2020. Ora sembra che veramente le cose siano fatte, si attende un ultimo disperato tentativo da parte del Manchester United di rilancio, ma io penso che ormai il ragazzo sia in parola con la Juventus e quindi sarà un nuovo caso Pogba, sarà un nuovo caso Pogba, cioè di un giocatore molto giovane, un talento molto giovane che si sposta dall'Inghilterra, dal Manchester United specificatamente alla Juventus in questo mercato prossimo estivo. Poi mi è stato detto anche, confermato che Raiola ha fatto mettere una clausola nel contratto di Holland, nel suo ultimo passaggio, qui contratto appena firmato con il Borussia Dortmund, quindi opportunità Holland nel 2022, se si dimostrerà l'altezza della situazione e continuerà a fare sfracelli, nel 2022 ci sarà da mettersi d'accordo con Raiola per prendere questo ragazzo per una cifra intorno ai 110-120 milioni di euro di clausola a fare non impossibile, se il ragazzo dovesse confermarsi ad altissimi livelli potrebbe essere un futuro arrivo nella nostra società. Nostra società che però ora, visto che il Borussia Dortmund ha acquistato Holland, ha la necessità di far partire Giadon Sancho, la Juve è sempre su Giadon Sancho, io vi ricordo ho fatto un video molto tempo fa parlando di 120 milioni più eventuali bonus da raggiungere eccetera, ma comunque una cifra intorno ai 120 milioni in quanto c'è tutta Europa su questo ragazzo, però stiamo a vedere come andrà a finire. Di Bala non continuiamo ad avere segni di apertura per il rinnovo contrattuale, quindi attenzione di Bala perché come vi avevo detto, secondo me ci sarà una mini rivoluzione il prossimo anno nella rosa della Juventus. Come abbiamo appurato è arrivato Chong, linea verde, è arrivato Kulusevski, quindi due centrocampisti, è arrivato Tendà che è un tizino sinistro, cosa vuol dire questo? Vuol dire che venderemo Pellegrini o che venderemo Alessandro nella prossima stagione perché in Tendà si dice che partirà dalla squadra della primavera ma c'è un sentore invece che vada direttamente in prima squadra. Stiamo a vedere. Grazie. 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 Grazie.